Art in gioco, un nuovo modo di educare attraverso il gioco delle arti. Fertango vuole creare uno spazio ludico e artistico per bambini e ragazzi dei quartieri di Napoli, per confrontarsi e rispettare il corpo dell'altro, creando nuovi linguaggi. Art in gioco, sosteneteci in bellezza e delicatezza. Grazie per la visione!